un saluto dalla redazione del gr asi in studio marco paganelli emergenza coronavirus la francia ancora oltre 10.000 casi in 24 ore la spagna ha superato gli 11.000 possibili misure restrittive in alcuni quartieri di madrid al via oggi un look down nazionale in israele la gran bretagna ha fatto sapere intanto che sarà adottata la stessa iniziativa solo se necessario lo ha dichiarato oggi in una intervista alla bbc il ministro della salute del regno unito nel giorno in cui sono entrati in vigore blocchi locali nella parte settentrionale del paese che coinvolgono 10 milioni di cittadini matt hanchcock ha sottolineato che la situazione sanitaria oltremanica è molto grave e ha invitato così le persone a seguire le regole sul distanziamento sociale veniamo in italia il parlamento confermi il blocco dei licenziamenti perché ci sono delle richieste a partire da conf industria di metterlo in discussione e l'appello lanciato oggi da napoli del segretario nazionale della cgl maurizio landini in occasione della giornata di mobilitazione nazionale ripartire dal lavoro indetta dal suo sindacato insieme a cis e will giornata positiva piazza affari l'indice fuzzi mib della borsa di milano segnava alle ore 11 e 15 di oggi un rialzo dello 0,23 per cento a 21 mila 625 punti e per il momento è tutto grazie per l'ascolto ci risentiamo nel prossimo appuntamento del gr asi